Mi avete chiesto in tanti come fare a diventare cliente privilegiato di Verochet. Bene, adesso ve lo spiego. Per diventare cliente privilegiato basta fare 35 euro di ordine e avrete come vantaggio spedizione gratuita, il 10% di sconto, quindi sui 35 euro dovete togliere ancora il 10%. Vi arriverà dentro il pacco anche un prodotto full size. Questo mese abbiamo lo shampoo secco che è favoloso e tra l'altro non è un regalino così perché ha un valore di 15 euro. In più, campioncini e il catalogo nuovo. Abbiamo anche i set in esclusiva per il primo ordine, come vedete qua sopra in questo caso c'è il set Monoi, però ne abbiamo tanti altri che ha un valore di 62 euro ma come esclusiva primo ordine viene a costare 35 euro. Ragazzi, ma poi volete mettere il Monoi? Tutto il set Monoi a questo prezzo? E questo era il modo per diventare cliente privilegiato e Verochet. Ma se siete interessati a lavorare insieme a noi, questo potrebbe essere un piccolo passo. Quindi, se avete la curiosità di sapere come iniziare a lavorare con i Verochet, fatemi sapere nei commenti. Un bacio!